Io sono Anita Guelfi, buongiorno e sono Valentina Talucci, siamo entrambi ricercatrici all'ISTAT e presentiamo un poster dal titolo Il percorso dei giovani dalla formazione al lavoro, primi risultati da una nuova base dati integrata, lavoro fatto insieme ai nostri colleghi Stefano De Santis e Francesco Truglia. Il nostro poster mira a presentare le potenzialità analitiche di una nuova base dati frutto dell'integrazione di diversi archivi amministrativi, grazie alla quale è possibile analizzare in modo nuovo e più efficace tematiche rilevanti nel campo economico e sociale. L'uso massivo di dati di fonte amministrativa trattati a fini statistici ed integrati con quelli provenienti dalle principali indagini sulle imprese, ha infatti consentito di costruire in ISTAT una nuova base dati integrata che fornisce una mappatura dettagliata e multidimensionale di famiglie e imprese con un approccio di tipo LEED, Linked Employer Employee Database, che integrano dati individuali su lavoratori, datori di lavoro e dati di fonte retributiva e fiscale. Come prima applicazione si presentano qui risultati preliminari di uno studio sulle caratteristiche e fattori chiave sottostanti la delicata detransizione che si osserva per i giovani tra la fase formativa e l'entrata nel mondo del lavoro. Un tema che è frequentemente al centro del dibattito scientifico e politico, ma su cui esiti ha spesso pesato la carenza di informazioni sufficientemente dettagliata e la mancanza di dati in forma longitudinale. Questa analisi viene svolta in particolare concentrandosi sui percorsi di vita, studio e lavoro di una corte selezionata, i nati del 1992, che vengono seguiti a partire dal 2011, anno dell'ultima rilevazione censuaria di tipo tradizionale, sino al 2019, che è l'ultimo anno della disponibilità della maggior parte dei dati che noi utilizziamo. Un primo risultato importante che riusciamo ad ottenere proprio grazie alla possibilità di seguire nel tempo i giovani, appunto dal 2011 al 2019, è un primo sguardo a quelle che sono state le loro carriere. Per esempio, un primo dato che emerge è che della corte del 1992, noi osserviamo che circa il 56% è riuscito a conseguire un diploma di tipo secondario superiore e nel 2019 osserviamo che poco meno della metà di questi ragazzi che hanno superato il diploma di scuola secondaria superiore è riuscito a conseguire anche la laurea. Se ci concentriamo poi su quello che possiamo vedere nel 2019 come risultato rispetto al mercato del lavoro, vediamo che circa il 60% dei giovani che noi osserviamo risulta effettivamente essere occupato, mentre il 7% circa studia, studia e anche lavora e un altro 6,9% invece sta continuando a studiare esclusivamente senza lavorare. Questo significa che poi c'è un altro percentuale importante, intorno poco meno del 25%, che nel 2019 risulta né studiare né lavorare, ovvero quelli che normalmente definiamo i net. Di questi tra l'altro sappiamo anche, grazie ai dati a disposizione, che la stragrande maggioranza ha avuto almeno un'esperienza di lavoro nel periodo precedente che però poi si è interrotta. La probabilità di essere occupati risulta essere più elevata per i ragazzi rispetto alle ragazze, circa 6,5 punti percentuali in più e ciò riflette una maggiore presenza femminile sia nella condizione di studente, quindi le ragazze che restano a studiare più a lungo, sia però anche quella di net, cioè di quelle delle persone che risultano né studiare né lavorare. Inoltre i dati di tipo territoriale ci confermano come nelle regioni del nord i giovani si inseriscono nel mercato del lavoro più facilmente rispetto a chi risiede nel mezzogiorno. Concentrando l'attenzione solo sul bacino degli occupati, i dati a nostra disposizione ci consentono anche di analizzare la relazione che esiste con il tipo di professione svolta e notiamo in particolare come all'aumentare del capitale umano accumulato tende ad associarsi lo svolgimento di una professione a cui corrisponde un livello di skill più elevato. In particolare, ad esempio, nelle professioni intellettuali, scientifiche di elevata specializzazione si ritrova occupata una quota relativamente ampia, poco meno del 40% dei giovani con un titolo di studio terziario di secondo livello, mentre all'estremo opposto notiamo che oltre la metà di chi ha avuto al più la licenza media si trova impiegato in professioni operaie e non qualificate. A questo punto sono stati applicati una serie di modelli di analisi multidimensionale e multivariata proprio per verificare alcuni effetti sulla probabilità o meno di essere occupato o anche sul reddito da parte di questi giovani. Il primo modello che presenteremo è stato elaborato attraverso la metodologia Random Forest e i dati disponibili consentono appunto di analizzare il legame che c'è tra il background familiare, il percorso di studio e la presenza nel mercato del lavoro. Applicando quindi questa metodologia la prima variabile che risulta particolarmente significativa rispetto alla probabilità di avere un segnale di presenza negli archivi del lavoro è aver avuto almeno un'esperienza lavorativa nel periodo 2012-2018 che abbiamo misurato in anni dove il numero meglio di anni più significativo è almeno 4. La variabile è particolarmente significativa perché naturalmente è una proxy della capacità di accumulare competenze, professionalità e quindi capitale non solo umano ma proprio professionalizzato. La seconda variabile è la variabile rilevata e costruita rispetto alla condizione familiare, quindi la probabilità per gli uomini come per le donne di essere presente in un archivio del lavoro è maggiore se i membri della famiglia hanno anche loro stessi un lavoro. Questa stessa probabilità si associa in modo significativo con il titolo di studio e con il voto conseguito e invece effetti quasi nulli si stimano per la professione e per la regione di studio. A questo punto è stato applicato un altro modello per verificare diciamo come l'impatto del datore di lavoro e in particolare delle caratteristiche di impresa agiscano sul reddito, quindi come outcome del lavoro sul giovane occupato. In questo caso è stato applicato un modello sugli effetti marginali come differenza tra le medie e parità di tutti gli altri fattori. In questo modello emerge molto chiaramente come lavorare in un'impresa altamente dinamica, produttiva, che innova e protegge rispetto naturalmente alla possibilità di essere presente in un archivio del lavoro ma è anche premiante rispetto ad un vantaggio retributivo. Quindi imprese più grandi che lavorano nel settore dell'industria, che innovano, attraggono capitale umano elevato e qualificato e quindi in particolare anche dal punto di vista regionale l'attrattività ruota intorno alle regioni del nord-est e in particolare le professioni che premiano dal punto di vista del reddito sono professioni tecniche altamente specializzate. Su questo modello è stato esploso il titolo di studio, perché ricordiamolo che nella base dati è stata implementata l'anagrafe nazionale degli studenti del MIUR, già integrata all'interno del registro base degli individui come BIT sul titolo di studio, perciò esplodendo questo carattere dell'individuo è stato possibile dettagliare il patrimonio culturale di questi giovani, premiati dal punto di vista del reddito e delle imprese e quindi le lauree che maggiormente proteggono e valorizzano ruotano intorno ai settori disciplinari dell'ingegneria, delle biotecnologie, della bioetica, della salvaguardia dell'ambiente, dell'economia, della gestione delle imprese, delle neuroscienze e del turismo. Tutti i temi peraltro presenti anche nelle politiche più recenti per la ripresa del nostro paese. Infine, un ultimo step di analisi è stato un'analisi geografica, perché la matrice di dati ci consente di costruire una matrice origine e destinazione, in particolare dove risiedo, dove ho studiato e dove ho trovato lavoro. Su questa matrice sono stati calcolati dei flussi, sia come verso che come intensità. Dal punto di vista della matrice residenza e istruzione, questi flussi agiscono soprattutto dal centro-sud verso il nord, con un'intensità uguale per gli uomini e per le donne e coinvolgono sostanzialmente fino a 500 soggetti. Mentre invece nella matrice istruzione-lavoro non si apprezzano differenze significative per le donne e per gli uomini e vediamo che questi agiscono soprattutto su un chilometraggio che non supera 400 km e la direzione è tendenzialmente dal centro verso il nord e in direzione oppure est-ovest. Infine è stato applicato anche qui un modello, un modello sull'influenza di alcuni indicatori socio-economici sui centri di gravità e quindi sempre su questa matrice origine e destinazione sono stati integrati variabili esogene come la popolazione media, il numero degli addetti, il numero delle unità locali e alcuni indicatori soggettivi del PES sul giudizio del proprio futuro e sulla soddisfazione della propria vita. Alla fine di questa analisi è possibile affermare che la mobilità si verifica soprattutto al diminuire dei chilometri da percorrere e si tende a uscire dalla propria regione di residenza quando si ha un giudizio negativo verso il proprio futuro e anche quando sostanzialmente la regione è densamente abitata e si tende invece a rimanere nella regione dove si è approdati a studiare e a lavorare quando si ha un giudizio positivo verso il proprio futuro e quando in questa regione sono presenti un numero di addetti elevato, quindi una domanda di lavoro che effettivamente attrae prevalentemente anche qui nel nord e nel nord est e questi flussi sono alimentati soprattutto dagli uomini e per ragioni di lavoro. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.